Ho una visione da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Alcar, your wheel partner. Allora, la distanza è breve e allora non abbiamo resistito alla tentazione di scoprire un'altra regina del lusso, la Mercedes-Benz classe S. E poi ancora la Ford Ka, consigliata dalla redazione, news e interviste dal mondo dei motori. Cosa dite? Partiamo? Diavolina ha un sacco di braccia, grazie agli ovuli di carbone vegetale pressati e già pronti all'uso, genera una braccia in grado di assicurare calore per oltre due ore. Il tutto in maniera pratica, veloce, igienica e senza sporcarsi le mani. Basta usare Diavolina a sacco di braccia, accende il sacco e il gioco è fatto. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Dal salone di Ginevra alla strada. BMW amplia la famiglia 3 con la GT, una variante di carrozzeria decisamente particolare che si pone come un anello di congiunzione tra Berlina e Touring. La nostra redazione ha avuto il privilegio di provarla sulle splendide strade del Salento. Vediamo com'è andata. Prendere il meglio della Berlina e della Touring per farne una versione trasversale capace di intercettare una nuova tipologia di clienti aperta al cambiamento. Miscelare l'eleganza e l'esclusività di un'auto di rappresentanza con la flessibilità posteriore e la capacità di carico di una station wagon. Il concetto Gran Turismo, secondo BMW, nasce così, sotto un nome che evoca il piacere di viaggiare con stile e comfort, ma senza dimenticare la giusta dose di appagamento al volante. Più imponente delle altre componenti della famiglia 3, la GT concentra le sue novità in una coda spiovente che nasconde un vano di carico inaspettato, di ben 25 litri superiore a quello della familiare, un posteriore che premia l'abitabilità e che riserva uno spazio davvero fuori categoria. Un extension dimensionale frutto di 20 centimetri di crescita in lunghezza, di cui 11 nel passo e soprattutto 8 in altezza. Aspetto che ha consentito di elevare la posizione di guida della Serie 3 Gran Turismo a tutto vantaggio della visibilità e quindi della sicurezza. A garantire dinamismo e divertimento alla guida, 5 motori, tutti con tecnologia Efficient Dynamics e con auto start-stop. 3 a benzina con potenze variabili dai 184 CV della 320i ai 306 della 335i a 6 cilindri, passando per i 245 CV della 328i e una coppia di diesel da 2 litri di cilindrata accreditati di 143 e 184 CV. Unità equipaggiate con un cambio manuale a 6 marce o con l'innovativo automatico a 8 rapporti doppia frizione in grado di toccare percorrenze di ben 25 km con un litro ed emissioni di soli 119 g di CO2 per km. La nuova BMW 3 Gran Turismo sarà commercializzata dal 15 giugno nelle classiche line, quindi modern line, sport line e luxury line. I prezzi partiranno da 37.990 euro per il 318G che sarà il motore di accesso alla gamma. Ma le novità non si fermano qua in realtà perché già dal mese di luglio avremo un ampliamento della gamma della serie 3 e si introdurrà un nuovo motore, un 325D, un motore sempre 4 cilindri, biturbo da ben 118 CV. Le vetture della Gran Turismo avranno anche altre modalità, una molto interessante intenzione anche sullo Gran Turismo della tassone integrale X-Drive, quindi la vettura assume ancora una maggiore flessibilità di utilizzo, e anche un accento più sportivo all'interno della gamma della serie 3 in quanto saranno disponibili anche i pacchetti MS-Port. Come tenere botta sul mercato dell'auto anche in un momento di crisi generale con modelli giusti e una strategia vincente. A svelarci i suoi segreti il nostro gradito ospite. Cari telespettatori, questa sera negli studi di X-Drive abbiamo il piacere di parlare di Hyundai e con Hyundai abbiamo gradito ospite Andrea Crespi. Buonasera Andrea, grazie dell'invito. Buonasera Andrea, direttore generale di Hyundai Motor Company Italia che ci ha portato l'ultima novità della casa coreana i30, un'ulteriore declinazione della gamma i30 che dopo la 5 porte e la Vagon è arrivata anche una versione sportiveggiante. Certo, questa è la versione un po' più sportiva, un po' più aggressiva per quello che riguarda la linea i30 che però è declinata come hai ricordato tu anche nella 5 porte e nella Vagon con due motorizzazioni benzina e diesel, sia 1.4 che 1.6, abbiamo potenze che arrivano fino a 135 cavalli, quindi veramente un'offerta completa per i nostri clienti. Tra l'altro in questo periodo dove il mercato, non per voi, ma per i concorrenti, fatica la vostra Vagon è diventata un punto di riferimento. Chiaramente la versatilità, la moltiplicità d'uso di questa carrozzeria è chiaramente importantissima e affascina sempre i nostri clienti. Qui abbiamo l'esempio della tre porte che è un esempio anche di design particolare, è forse la vettura che meglio interpreta la nostra filosofia di design denominata Fluid Sculpture, con queste linee molto decise però anche molto morbide ed eleganti. Questo è un modello sicuramente importante e poi in Italia i 10, i 20, direi lo zoccolo duro della vostra gamma che ha conquistato le famiglie, i neopatentati, le donne, direi le piccoline hanno già creato una nicchia importante. E tanti altri ne vogliamo conquistare Andrea, perché noi dobbiamo crescere ancora tantissimo nel mercato Italia, questo è il nostro obiettivo, il mercato rimane difficile, quindi rimaniamo sempre con i piedi per terra, però noi crediamo che il nostro prodotto, la nostra proposta commerciale, possa crescere e interessare sempre più gente, chiaramente partendo da dove il mercato è più grande, quindi il mercato degli 10, del segmento A e il mercato del segmento B con la i 20, che rimane sempre un prodotto importantissimo. Il mercato ha chiesto a gran voce il GPL e Hyundai gliel'ha offerto anche con le piccoline. Certo e non solo con le piccoline, ti do quasi un'anteprima, da oggi sono disponibili anche l'X20, il monovolume compatto del segmento B e proprio l'i30, che nella versione 5 porte e Vagon prendono anche la motorizzazione GPL. Oggi chiaramente è importantissimo dare ai consumatori una soluzione per la gestione dei costi e dell'utilizzo della vettura e noi pensiamo anche con un riscontro effettivo sul mercato che la motorizzazione GPL possa essere effettivamente una proposta interessante. Quanto è mediamente il delta presto tra una versione alimentazione diciamo tradizionale e il b-fuel? Noi ci muoviamo esattamente in quelli che sono i termini di mercato, anzi direi che siamo nella parte più competitiva del mercato. Il mercato di solito riconosce un differenziale di prezzo intorno ai 2.000 euro, noi andiamo dai differenziali del segmento B che sono intorno ai 1.500 euro fino a muoverci poco sotto i 2.000, 1.900, 1.800 euro. Passiamo alla gamma con la X, i X35. Io dico sempre che Hyundai ha dato la possibilità a tante famiglie di entrare nel mondo dei SUV, dei crossover senza dilapidare il conto corrente. Dunque un'offerta anche da questo punto di vista di vetture prestazionali con una linea grintosa, con tanta tecnologia a prezzi di accesso interessantissimi. Assolutamente sì Andrea, la gamma X35 è stata quella che ci ha consentito un po' se vuoi di cambiare pelle, quella che ha fatto un po' da spartiacque tra il passato di Hyundai e il futuro e rappresenta naturalmente sempre il futuro. È stata una proposta che è stata apprezzatissima, che è forse la migliore di tutta la gamma Hyundai con l'X35 anche lì in varie potenze e molto molto conveniente perché comunque partiamo, è una gamma che parte da sotto i 20.000 euro. X35 X-Possible, un qualcosa in più, una versione speciale accessibile a tutti. Io oggi penso che una vettura debba avere per esempio sempre il navigatore satellitare perché è indispensabile su una vettura come X35 ed è quello che abbiamo offerto in questa versione che abbiamo chiamato X-Possible, sempre rimanendo in un'area estremamente accessibile anche se la compariamo con concorrenti se vuoi più blasonati e più nobili, molto accessibile e soprattutto con un contenuto tecnologico importante quindi chiave intelligente, retrocamera e come dicevo prima sistema di navigazione satellitare. Direi che è una filosofia che ormai fa parte di tutta la gamma Hyundai perché queste versioni speciali con qualcosa in più le ritroviamo sia sulla 20 che sulla 10. Chi guida un'auto ha bisogno di poter consultare il suo smartphone in maniera semplice, in maniera immediata ed ecco quindi che per esempio sull'X20 abbiamo la versione speciale, tra virgolette, App Mode che è quella che ti consente attraverso un'installazione multimediale all'interno della vettura di consultare sia lo smartphone sia di avere la connessione ad internet. Sono tutte funzionalità che ormai non sono più residuali, sono essenziali per chi vuole essere sempre connesso all'interno della vettura senza rinunciare a nulla. Con queste vetture avete conquistato una buona fetta del mercato nel 2012, siete una delle aziende che possono sorridere. Il 2013 è un altro anno impegnativo, quale sarà la strategia per conservare e chissà magari migliorare ancora un po' nel nostro mercato? Il 2013 per noi rappresenta un anno di consolidamento se lo vogliamo vedere sotto il profilo dei numeri e della quota di mercato, però abbiamo molta fiducia, siamo ottimisti, investiamo nel prodotto, abbiamo tante novità da sfornare per l'immediato futuro e soprattutto ancora un grandissimo lavoro da fare per avvicinare quanti più clienti e quanti più consumatori alle nostre proposte che secondo me ancora non hanno la conoscenza giusta e possiamo fare ancora tantissimo lavoro insieme a tutti quei appassionati da un lato e dall'altra parte a tutti quelli che sono veramente interessati. Quotinaneamente ci sono delle offerte irrinunciabili, ho visto solo un paio di giorni fa l'I20, una vettura che a me personalmente piace molto, una vettura trasversale sia per famiglia ma per giovane e dei prezzi veramente incredibili. Un prezzo molto accessibile perché quella è la nostra vocazione, la nostra vocazione è quella di interessare più persone possibile, avvicinare i consumatori a questo prodotto che ancora secondo me non è sufficientemente conosciuto ma che non ha niente ad invidiare a vetture molto più conosciute sul mercato italiano che oggi proponiamo a un prezzo estremamente interessante sotto i 9 mila euro con una formula di finanziamento a tasso zero per avvicinare quanta più gente possibile. E poi l'altra cosa, non ci dimentichiamo mai che Hyundai è l'unico costruttore sul mercato italiano ad avere 5 anni di garanzia offerti dalla casa madre, quindi senza formule di estensione a pagamento o formule assicurative che allungano il periodo della garanzia base. Andrea, ma una curiosità, questa estensione della garanzia di 5 anni è valida anche per la vettura GPL? Certamente sì, tutta la gamma GPL è coperta anche questa da 5 anni di garanzia, quindi nessun problema neanche per i nostri clienti della gamma Econext GPL, abbiamo chiamato così la gamma GPL per evidenziare diciamo tutte le vetture ad alimentazione GPL. Ancora grazie ad Andrea Crespi e vi aspettiamo te e una nuova vettura quanto prima nei nostri studi. Grazie mille, grazie a tutti, grazie per l'invito Andrea. Con Andrea Nicoli la prova su strada di questa settimana ci porta a bordo della Subaru BRZ, una coupé a trazione posteriore facile da guidare ma che garantisce una piacevole esperienza di guida. Dotata di un motore boxer da 200 cavalli può raggiungere una velocità massima di 230 km orari. Ma diamo spazio alle immagini. Per la prova della settimana andremo a guidare una sportiva, e che sportiva? La nuova Subaru BRZ, una 2 più 2 con un motore tipicamente Subaru, boxer, 2 litri, 200 cavalli. Ma la cosa più interessante e la novità in casa Subaru, la trazione posteriore. 4,24 metri, ruoti da 17 pollici, un'ottima ripartizione dei pesi, perché con la trazione posteriore bisogna guidare col volante e con il gas, e queste misure sono le misure che la rendono esclusiva. Il motore boxer 2 litri, 100 cavalli litro, in totale dunque 200, non ha il turbo, ha l'iniezione diretta con un doppio iniettore. Ha tanti cavalli, certo, bisogna insistere un po' col gas perché ce li ha molto in alto. La posizione di guida è molto ribassata, si guida con le gambe distese, con la schiena dritta, il sedile molto avvolgente, volante in pelle e piccola leva del cambio. Anche l'acceleratore impulcrato verso il basso ricorda l'acceleratore delle macchine da corsa. Abitabilità ridotta, ma concentriamoci sulle prestazioni perché le prestazioni sono decisamente di riferimento. La ripartizione del peso è quasi al 50% su entrambi gli assi e fa il piacere di guidare una trazione posteriore. Ottimo il cambio manuale a sia rapporti con innesti precisi. La pressione è un po' dura, ma ripeto, è una pressione che ricorda un po' le macchine da corsa e per questo va gustata. Due numeri importanti, il peso, di poco superiore ai 1200 kg e le prestazioni da 0 a 100 in 7,6 secondi. La velocità massima è che sfiora i 230 km all'ora e i consumi. Sfruttandola, come è giusto che debba essere fatto, si rimane all'ordine di 9-10 km al litro. Con un po' di attenzione si possono sfiorare i 12 km. Il tutto con grande piacere, specialmente acustico, questo rumore si fa sentire. E poi, dicevo, la stabilità. Una stabilità che è a prova di errore e permette di essere molto, molto veloci in curva. Un bel giocattolo, nel senso buono del termine, una coupé con grandi prestazioni, accessibile a tutti. A partire dal prezzo, poco meno di 30.000 euro, tanta facilità di guida e se si ha un po' di piede e un po' di esperienza, grandi, grandi soddisfazioni anche contro vetture con prestazioni superiori. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Vi aspettano dopo la pubblicità. Safedrive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Finalmente ci siamo tutti. Certo, potevamo forse mancare. Allora, questa grigliata la facciamo o no? Ragazzi, ci penso io. Sono un esperto di braccia. Esperto di braccia? Ma cosa stai facendo? Carta e legna, no? Guarda, lascia stare, eh. Per fortuna che ci siamo noi donne, vero? Ma che braccia perfetta! Certo, è merito di diavolina accendi grille ecologico. Come fai a non conoscerlo? Diavolina accendi grille ecologico è un prodotto di facile utilizzo. Intuitivo e pratico risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. Usare diavolina accendi grille ecologico è facile, sicuro e rispetta l'ambiente. Ma che bontà! È tutto merito della cuoca? Ma no, è tutto merito di diavolina! Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche diavolina duo, l'accessorio 2 in 1, per accendere e ravvivare la braccia di caminetti e barbecue. Skoda Ottavia è la wagon più venduta in Europa. Adesso diventa più grande, più elegante e autorevole. Il baule è da record, 610 litri. La qualità delle plastiche e delle finiture cresce. I motori tagliano consumi ed emissioni di quasi il 20%. Oltre a 9 airbag, l'Otavia Wagon monta molti dispositivi elettronici di sicurezza. Dalla frenata automatica di emergenza al sensore che mantiene in corsia, fino al sistema che riconosce se il conducente è stanco e lo avverte. In giugno le prime consegne, con prezzi da 19.610 euro. Con il suo profilo allungato e filante, la Peugeot 5008 si rivolge alle famiglie dinamiche che necessitano di un veicolo comodo e con tanto spazio a bordo. In grado di trasportare sino a 7 passeggeri, la monovolume francese fa della modularità il suo punto di forza. I sedili posteriori singoli si abbattono facilmente, mentre quelli della terza fila scompaiono nel pianale una volta ripiegati, aumentando così il volume di carico oltre i 2.500 litri. Sotto al cofano, motori benzina da 120 e 156 cavalli o diesel da 115 a 163 cavalli, abbinati a cambi manuali, robotizzati o automatici. La partenza della 31esima rievocazione storica della Mille Miglia a Brescia è stata l'occasione per una presentazione d'eccezione, quella della Mercedes-Benz classe S, da sempre l'ammiraglia in fatto di tecnologia, comfort e sicurezza. Sarà riuscita anche questa volta a mantenere saldo il suo scettro? Andiamo a scoprirlo insieme. L'essenza del lusso Sin da quando Mercedes-Benz ha affidato a una lettera l'identificazione della massima opulenza della gamma, la S è sempre stata sinonimo di unicità e distinzione. Il meglio o niente. Questo è il motto dell'auto di rappresentanza più venduta al mondo e oggi si rinnova nella sostanza più che nell'apparenza, come tradizione vuole. Un elegante berlina deve saper stupire passando inosservata, lo sa bene la classe S, che ha adottato linee dinamiche ma discrete, con la mascherina del radiatore più generosa ora in posizione più verticale e i fianchi pronunciati al posteriore come unica concessione fuori dalle righe a un look impeccabile. Le vere ricercatezze sono state riservate invece, come di consueto, al comfort e alla tecnologia di bordo, da sempre la quintessenza della classe S. L'ammiraglia di Mercedes-Benz si rivela infatti un'autentica spa a quattro ruote. Dalla cromoterapia di un modello illuminato completamente con tecnologia LED all'aromaterapia del suo sistema di profumazione attiva, senza dimenticare la funzione di energizing di sedili posteriori programmati per simulare un rilassante massaggio con pietre calde. La Mercedes-Benz classe S, insomma, è un'auto che va consegnata all'autista per potersi godere un abitacolo spazioso dove il legno, come nei salotti buoni, si sposa con la tecnologia di due display a colori di ben 30,7 cm di diagonale. La classe S arriverà sul mercato italiano prima dell'estate, tra le motorizzazioni. Tutte motorizzazioni Euro 6 disponibili in due versioni, Premium e Maximum, e poi per il primo anno una versione esclusiva Edition One. Prezzi a partire da 88.000 euro della versione diesel Euro 6 Bluetech fino ai 136.000 euro della esclusiva versione nel passo lungo della S500 Edition One. Classe S porta in dote, come sempre, una sicurezza a livelli d'eccellenza. Su tutto un sistema pre-safe, ora con un occhio di riguardo anche per i pedoni, le cinture di sicurezza posteriori con airbag integrato, il Cushion Bag per i sedili reclinabili è una telecamera stereoscopica costantemente puntata sul manto stradale che ne rileva le sconnessioni per regolare istantaneamente l'assetto di guida. Tre infine i motori previsti al lancio, tutti già Euro 6, V6 diesel ibrido benzina elettrico con potenze da 258 e 306 cavalli e V8 benzina da 455 cavalli, tutti con emissioni di CO2 mai superiori ai 199 grammi per chilometro. In attesa di un secondo ibrido in arrivo a breve, questa volta diesel a quattro cilindri, capace di promettere consumi fuori categoria. Riflessioni, tendenze e mercato. Dalla sede del giornale spazio all'appuntamento con il nostro opinionista. Con lui scopriremo il vincitore di questo mese dell'iniziativa Tester per un giorno. Cari amici di Safe Drive, come sempre in compagnia di Pierluigi Bonora, caporedattore del quotidiano Il Giornale. Buonasera Pierluigi. Buonasera, ciao Alessio, buonasera a tutti. Grazie come sempre di ospitarci all'interno del tuo giornale. Pierluigi, come sempre facciamo il punto un po' sul trend di mercato del settore auto in Italia. Siamo quasi a metà anno ed è forse giusto tirare un po' le fila, no? Un giro di boa che conferma la grave crisi che il mercato dell'auto sta attraversando. La situazione è nella sua drammaticità leggermente migliorata con i dati relativi al mese passato, però rimane sempre questo meno 7,9% se non sbaglio, che poi nel cumulativo mi sembra che sia meno 11%. Un dato, se vogliamo, positivo riguarda più in generale l'Europa, che registra dopo 19 mesi di calo consecutivi il primo indice positivo. Aspettiamo a cantare vittoria, direi di attendere i dati dei prossimi due mesi, dopodiché si potrà fare veramente un punto della situazione. Ecco, troppo presto non bisogna così entusiasmarsi facilmente, massima prudenza e vediamo quello che accadrà. Ecco, nello specifico Pierluigi, il mercato italiano in questo momento andando ad analizzare segmento per segmento, che segnali sta dando? Mi dicono che il premium continua a tirare, però noto che l'attenzione dei costruttori si sta rivolgendo soprattutto sui cosiddetti urban crossover. Vedo molte small car e vedo moltissimi piccoli SUV. Pierluigi, tu tra l'altro sei presidente di Amoer, che è un movimento di opinione che difende e tutela il settore automobilistico. Proprio tra poche settimane, tra 15 giorni, esattamente il 21-22 giugno, si terrà a Roma un evento davvero importante. Missione mobilità. La prima tappa di questa missione mobilità. Ecco, spiegaci in che modo si va a difendere il comparto dell'auto. È un movimento di opinione e di provocazione. Vuole fungere da continua spina nel fianco al settore delle auto, vi rivolgo quindi alle associazioni di categoria, affinché con questa continua sollecitazione non mollino la presa e facciano qualcosa per rilanciare il settore delle quattro e delle due ruote. Un confronto aperto, reale, concreto sui problemi, non le solite chiacchiere, ma come attraverso anche una serie di provocazioni, arrivare a definire qualcosa di positivo, cioè togliere questo alone negativo sul settore dei motori. Quindi, Pierluigi, appuntamento il 21-22 a Roma, dove esattamente, tanto è un evento gratuito con tanti testimonial d'eccezione. Sì, lo faremo alla PUL, che è l'Università Lateranense, che ospita questo evento. Ringraziamo ovviamente le autorità e i responsabili della PUL e speriamo che il dibattito sia concreto e soprattutto ci sia partecipazione. Bene, Pierluigi, resta ancora qui un attimo con noi perché, come sempre, come di consueto, in questo approfondimento cogliamo anche l'occasione per andare a proclamare il vincitore dell'iniziativa di tester per un giorno di questo mese, realizzata come sempre dalla nostra redazione in collaborazione con Automobilismo e ovviamente il giornale. Pierluigi, l'oggetto della prova di questo mese era la nuova monovolume di casa Kia, la nuova Carens. La nuova Kia non è la Kia di 6-7-8 anni fa, la casa coreana si è imposta alla grande sul mercato europeo, in particolare su quello italiano, grazie al rapporto favorevole qualità-prezzo e grazie anche al design nuovo che sta caratterizzando i suoi modelli. E Carens è una macchina che si propone al pubblico per le sue doti di abitabilità, di efficienza e poi anche per il, come dicevo, per un prezzo accattivante. Sempre è difficile scegliere il profilo vincitore, andiamo a nominare i tre finalisti, ovviamente poi a te l'onore di decretare appunto il vincitore. Abbiamo scelto tra le tantissime adesioni raccolte Daniele Proietti, che è un poliziotto di Modena, Marco Famoso, che è un impiegato di Roma e Stefano Marconi, che è un dirigente di Brescia. Bene, complimenti a Marco Famoso, romano, impiegato e mi raccomando prudenza quando guidi questa bella automobile. Marco complimenti, avrai come sempre l'opportunità di cimentarti davanti alle nostre telecamere e l'opportunità di scrivere due articoli, uno per la rivista Automobilismo e uno per la pagina online del quotidiano Il Giornale. Complimenti ancora, a te Pierluigi un grazie e l'appuntamento al mese prossimo. Grazie a tutti, arrivederci, ciao Alessio. Divertente, irriverente e pratica, specie in città. Ka porta ad ingresso nel mondo Ford, oggi è anche particolarmente conveniente grazie alle allettanti promozioni della casa. Insomma, la candidata ideale per la rubrica della nostra proposta della settimana. A distanza quasi di 5 anni dalla sua presentazione, Ford Ka rimane una delle utilitarie più pratiche e simpatiche del mercato. Lunga solamente 3 metri e 62 centimetri, la compatta a tre porte può ospitare 4 persone e ribaltando lo schienale del sedile posteriore riesce a trasportare fino a 710 litri di carico. Nata principalmente per un uso urbano con un motore 1000 a benzina da 69 cavalli, garantisce prestazioni vivaci e consumi che con un po' di attenzione possono raggiungere i 20 chilometri litro. In alternativa è disponibile il 1300 a gasolio con consumi ancora più allettanti, pari a oltre 24 chilometri litro. La dotazione di serie è essenziale, ma non manca l'ABS, 4 airbag e già nella versione intermedia il climatizzatore manuale di serie. Per la carrozzeria sono previsti 12 colori e ben 5 tipi di cerchi. Tra gli accessori spicca anche un generoso tetto in cristallo panoramico, ma per chi non vuole passare inosservato, sono disponibili delle versioni ancora più ricche e accessoriate, come la Grand Prix, la Suite e la Metal. Il listino si apre con la K12 Plus a 9500 euro, che diventeranno 11.000 con il motore 1300 TDCi. La versione d'attacco è però priva di radio e climatizzatore, ma non preoccupatevi, proprio in questi giorni i concessionari propongono un'offerta accattivante. K Plus 1200 a benzina con clima e radio CD a 7.950 euro, anche senza usato da rottamare, e con idea Ford anche a 150 euro al mese. Cari amici, spero che vi siate divertiti in nostra compagnia, perché anche oggi Safe Drive termina qui. Ma niente paura, in caso di crisi d'astinenza da motori potrete rimanere in contatto con noi attraverso l'indirizzo mail info-safe-drive.it, su internet all'indirizzo www.safe-drive.it e sulla nostra pagina Facebook oppure con un tweet. Inoltre, per rivedere i test e le prove su strada delle vostre auto preferite, non dimenticate che collegandovi al canale Safe Drive Channel di YouTube potete avere accesso a tutti i nostri servizi. Da Valeria Bocca è davvero tutto, ricordatevi, con Safe Drive l'automobile non ha segreti! Arrivederci da... Diavolina, tutta la magia del fuoco Alcar, your wheel partner Bocca da Salire Video Grazie a tutti